Pillule di Marta Locke per Adelia Clavian. Lei è originaria, è l'unica artista originaria di Lisbona, che però poi si è trasferita e attualmente sta vivendo in Svizzera. Quindi lei appartiene particolarmente a questa esibizione perché si sente un po' a casa propria. Lei sceglie un neorealismo pop, un neopop, chiamiamolo neopop, anche se lo fa in maniera fotografica, come d'altronde è la tecnica della pop art, che sceglie serigrafie, che sceglie vari modi di rappresentare icone contemporanee. Adelia Clavian lo fa attraverso la fotografia che poi lei sovrappone con molti strati fino a dare un senso diverso all'immagine finale senza perderla. E dedica, come nell'intento della pop art, rende protagoniste icone del cinema e del calcio. perché qua vediamo Cristiano Ronaldo. Qua Red Lips è l'unico forza in cui lei non rende protagonista alcuna icona, ma qua c'è Marilyn, Charlie Chaplin in tempi moderni e Frida Kahlo. Quindi ecco, questa sua tecnica molto particolare di sovrapposizione, di finishing molto lucido rende le sue opere particolarmente di impatto.